Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi io e Alissa spacchettiamo questi set di Hello Kitty and Friends Sei contenta? Sì, sono contentissima Come mai stai toccando proprio quello? Perché c'è anguria Eh sì, il set di Hello Kitty anguria E anche a tema mare forse? O piscina? A tema estivo perché vedi più c'è anche l'ananas È vero, è vero E qui invece abbiamo quello del servizio da te Ve li avevamo già fatti un po' vedere di sfuggita nell'unboxing di Hello Kitty Ma adesso li apriamo così li vediamo bene bene nel dettaglio Ecco Alissa con gli occhialetti finti Va bene dai Ma non è anche le lenti No Ok dai, apriamo Vai tu apri questo, io apro questo Guarda Alissa, aspetta Stickers! Stickers! Che bello questo! No, questo lo uso Però puoi mettere sulla porta? Sì! Qui c'è Buzz Maru con Hello Kitty Le anguriette, vai tira fuori Ed ecco anche questo Qui però non ci sono gli stickers, peccato Ah, ho capito, guarda Questo è un scivolo Che qui ci metti una bacinella No, ci metti questo Ah, ci metti questo qua sotto La riempi d'acqua con lo scivolo e le fai fare lo scivolo Ah, è una gomma! Perché infatti Alissa questi set sono anche un po' a tema scrivere, cancelleria Vedi che qui c'è la matita Sì, c'è il regello E guarda qui invece il blocchetto Invece qui c'è un portamatite e infatti qui c'è una matita Montiamo tutto e poi li facciamo vedere Ok Bravissima Ora lo scivolo Ma possiamo riempirla d'acqua dopo Ok, mettiamo il fiocchetto Qui Tiriamo giù E mettiamo i post-it Ecco qua E qui c'è la matita per scrivere I personaggi Li possiamo mettere su questi supporti Un po' dove vogliamo Ok, io ho finito Guarda È finito? Sì Qui prima c'è la piscina con il cibo Poi si alza E qui c'è il portamatite Ok Molto appuntite E poi l'anguria Ora qui ce l'ha tolto e ce l'ha messa qui Ma è una gommina quella, vero? Sì, sono delle gommine Ah, ecco dove va messa l'anguria Credo che va messa qua sopra Ma in realtà vedi tutti questi buchini Sono per i personaggi Perché tu li puoi spostare dove vuoi Mentre giochi, no? Se li vuoi tenere qui Per ora li metti qui Poi magari lo stai spostando Che va da un'altra parte E lo incastri da un'altra parte Sì E guarda un po' questa Alissa Che carina Qui c'è la tazzina da tè E ci possiamo mettere dentro E lo kitty E se ne va in giro così Qui appunto ci sono i fogliettini Per prendere gli appunti Fatti apposti Eh sì E qui c'è una tegliera Che si apre E dentro c'è una mini casetta Però è anche più piccola di loro Quindi ci vive qualcuno di ancora più piccolo Ma la mia è in costume perché è del mare E la tua come ha vestita? Sarà un po' elegante E la mia ha la sua classica tutina rosa E poi guarda Qui si chiude È una tegliera E la puoi portare in giro Io mi accennio Quando è chiuso diventa così Guarda E poi Sì è tutto chiuso Vabbè il tuo è bellissimo Te lo puoi portare a scuola Con la scusa che è un astuccio Dici Eh ma questo è l'astuccio delle matite Sì E poi a ricreazione ci giochi È vero E poi da qui si prende Per chiuderlo Devi fare così E poi mette il fiocco Perché se c'è quel fiocco Lo blocca Vedi anche un lucchettino Sì Proprio bello Il tuo è bellissimo Veramente È bella la mia casina da te Però il sette anguria Sembra molto più divertente C'è addirittura lo scivolo Che Ma non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Aiuto Non mi piace più allora Arriva l'acqua Basta basta Sì e guarda C'è anche l'alga qui Ah che fresco Anche se ora L'acqua è arrivata addirittura Qui sulla spiaggia Per prendere il sole Però non fa niente Anzi meglio Fammi rifare lo scivolo Posso mettere il seme alto Tutta perfetta Ecco ora sì Che è una vera spiaggia Ripara fino a qui Prendiamo anche lei Poverina Il suo set Ha anche il costume E poi la mia Le sta rubendo Tutta la scena Aspettami Arrivo anch'io Guarda che è il mio set Eccolo qua Anche pom pom purin Che sta facendo il surf Scusate è il mio Scusa Batmaru Vieni vieni La scorta segreta Di angurie Aspetta aspetta Ne voglio un po' anch'io Anch'io Ne vuole un po' pure lui Meglio Così la piscina Resta tutta per me Tuffo a cane Tuffo a cane Oh che bello Se è sulla tavola di sol Vabbè basta Mi vado a rilassare Un po' qui Sull'amaca Guarda l'onda Diventa sempre più alta Guarda che bello Quando l'onda è alta Sì ma aspetta un attimo Ma cosa c'è qui Altra frutta Sì Però non si prende No È uno speaker Possiamo nuotare Arrivare fino a qui Mangiare un po' di frutta E subito Rituffarci in acqua Che bello Guarda li faccio fare Il trenino 3, 2, 1 Ehi ma c'ero io Mi metto qui a rilassarmi un po' Va bene Ragazzi Qui l'unboxing è finito Vi abbiamo fatto vedere Questi carinissimi Cofanetti di Hello Kitty Con dentro dei play set Ispirati all'estate E all'ora del tè E qui aspetta che Non vi abbiamo fatto vedere Che in quello dell'anguria C'è anche il righello Quindi ancora più La scusa Che è un astuccio Sì Anche se secondo me La maestra Non ci casca Secondo te? Secondo me pure E vabbè dai Allora lo usi a casa Anzi no Io non ci casco Che mi dici Che stai facendo i compiti E ti prendi l'astuccio E poi ti becco Che stai qui a giocare Bene E allora ragazzi Prima di salutarci Attacchiamo lo sticker Sulla porta Vai Vorrei Voi attaccare Lei E lei Ok Anche perché ci sono ancora Un po' di spazi vuoti Questo Si sta un po' staccando Anzi L'avrai staccato tu Allora Facciamo una cosa Riparazione Ah Perfetto Ora si Che bello Va bene E allora ragazzi Il video di oggi Finisce qui Io e Alissa Vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Ciao